Un resoconto su questa prima parte del panel di oggi? Il nostro panel è dedicato al tema della cittadinanza attiva e della partecipazione e della progettazione integrata nel territorio per una migliore promozione e valorizzazione della cultura come elemento fondante per la qualità della vita e la qualità sociale dei cittadini. Siamo partiti dalla convenzione di Faro del Consiglio d'Europa, la convenzione quadro sul valore del patrimonio culturale per la società che è una convenzione che ribalta un po' il punto di vista delle politiche sul patrimonio culturale e l'encentra più sul cittadino, sulla partecipazione del cittadino e sulla comprensione dei valori che il cittadino assegna al patrimonio culturale. In questa prima parte abbiamo visto come degli esempi concreti realizzati dal basso, dalle associazioni, da organizzazioni dei cittadini mirano proprio a migliorare la qualità delle politiche sul patrimonio culturale e poi ci siamo interrogati anche a livello di autorità regionali e continueremo nel pomeriggio, sui quali sono gli strumenti per far sì che queste iniziative non restino di iniziative isolate ma possono diventare delle iniziative sistematiche per il nostro paese.